Il 13 febbraio, per il secondo anno consecutivo, Radiospeaker.it organizza il World Radio Day. La giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. I più grandi big delle radio italiane uniti per festeggiare il mezzo di comunicazione più amato di sempre. Domenica 13 febbraio, dalle 10 alle 18, vai su worldradioday.it e segui l'evento online. Worldradioday.it. Anch'io amo la radio. Worldradioday.it